Annalena Tonelli è una grande figura di missionaria laica che merita di essere riscoperta. Oggi ricordiamo l'anniversario della sua morte avvenuta il 5 ottobre 2003. È stata uccisa a colpi di fucile da un commando islamico in Somalia, proprio nel luogo di assistenza per i più poveri che lei aveva portato avanti in quel paese. Però questo è stato il culmine di una vita totalmente donata agli altri. Per ben 33 anni è stata in Africa, prima in Kenya e poi appunto in Somalia, a servizio dei poveri, degli ultimi. E così ha confidato spiegando il senso del suo impegno. Disse volevo seguire Gesù e per farlo ho scelto di stare insieme ai poveri, con gli ultimi. Tra l'altro proprio per questo motivo è stata insegnita del premio Nansen per i rifugiati, proprio in quel 2003 che poi avrebbe visto la sua morte. Vi cito soltanto un brano delle sue memorie che ricordano appunto il senso profondo della sua missione. Disse volevo seguire Gesù e scelsi di essere dei poveri. Partì decisa a gridare il Vangelo con la mia vita, sulla scia di Charles de Foucault che aveva infiammato la mia esistenza. 33 anni dopo grido il Vangelo con la mia sola vita e brucio dal desiderio di continuare a farlo fino alla fine. E proprio fino alla fine quello che lei ha fatto donando la sua vita.